ragazzuoli benvenuti sul mio canale io sono laser e oggi siamo tornati su brawl stars per raccogliere una valanga ma proprio ragazzi una valanga di ricompense però prima mi raccomando vi ricordo di iscrivervi lasciare un pollicione in su qua sopra nel video vedete tutti i miei social mi raccomando iscrivetevi su twitch perché da giorno 16 cominciamo a fare live dalle 3 e mezza quindi vi aspetto per giocare tutti insieme fare contenuti incredibili vi aspetto in live comunque tornando a noi tornando al video come vedete abbiamo una fracca di ricompense abbiamo 16 ricompense in alto a destra che sono quelle della championship abbiamo un po di ricompense qua delle coppe e abbiamo un po di ricompense qua quindi ora le andiamo ad aprire vediamo se riusciamo a sbloccare qualcosina di nuovo probabilmente no ma cosa più importante ragazzi noi ci andiamo a prendere dove 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 la reazione quella super mega esclusiva troppo bellina questa reazione incredibile quindi andiamo a raccogliere tutto quello che c'è da raccogliersi 5 sono ricompense un pochettino ridicole però che fa ci sputate no noi le accettiamo volentieri le accettiamo senza lamentarci ovviamente qua cos'è che di 10 gettoni wow sono un pochettino stupido perché volendo questi potevo tenermeli per il prossimo passo ma va bene ragazzi noi non badiamo a spese ci andiamo a ritirare pure tutte queste ricompense secondo me potremmo sbloccare un nuovo brawler cromatico no scherzavo perché come non ce ne sono ricompense con i brawler cromatici benissimo però stiamo prendendo un bel po' di ricompense quindi secondo me forse possiamo portare un nuovo brawler a livello 11 nel prossimo video perché comunque i brawler livello 11 ragazzi sono una serie a parte quindi ricompense qua prese tutte andiamo assolutamente qua e diventiamo ricchi assolutamente super ricchi mamma mia quante cose ma volete vedere che veramente forse sblocchiamo chester no pensavo di averne molte di più come non detto 2000 come li apre tutti no incredibile tutte ricompense paurose andiamo veloci siamo arrivati all'ultima ricompensa finalmente abbiamo preso tutto chester non abbiamo sbloccato manco per sbaglio però abbiamo preso un bel po di potenziamenti infatti come vedete possiamo portare già edgar a livello 11 jesse mi sa che un bel po li possiamo potenziare fatemi alzare un pochettino di livello lei un minimo ma proprio di un non nulla livello 6 almeno no beh abbiamo sbloccato i gadget a me piace molto l'amplificatore quindi andiamo a sbloccare subito l'amplificatore ragazzi io direi che per concludere il video ci andiamo a fare una partita in power league ci potrebbe stare sono pure il capo squadra banniamo noi ottimo siamo in santuario quindi in santuario io bannerei iv ragazzi la banno subito perché comunque guardando anche le finali iv è una rottura se solo la trovassi qua e io mi sa che mi vado a prendere 8 bit se non me lo bannano no 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 ma quale quale lei vatti a prendere un brock tu mettiti brock tu sì vabbè ragazzi ma di che stiamo parlando livello 7 dai 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 ma io non posso fare la power league solo così cioè per carità voglio fare il push da solo in power league ma così no buzz vabbè va bene ragazzi abbiamo capito come si va questo qua con tara manco a 8 bit quante coppe ha 50 80 massimo bene abbiamo già capito l'andamento di questa partita in power league sarà molto divertente devo dirlo l'unica cosa buona è che l'avversario ha soltanto bow a livello massimo se non ho visto male ma scusatemi ma tara è un bot io credo di aver visto no 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 non può essere non può essere tara un bot non penso proprio in power league mi sembra molto difficile un bot non so se esistono i botti in power league sono morto non sono morto mai attenzione con 40 di vita io barcollo ma non mollo nel frattempo ci mettiamo questo qua mamma mia ragazzi ho visto nella championship una partita con il colonnello il mitico colonnello è 8 bit infuriato col suo con la sua super incredibilmente forte dai un pochettino di danno io l'ho fatto palesemente si vabbè ma io sto volando ma io sto volando diciamo così rischio la morte rischio la morte e sono morto ragazzi dovremmo fare un pochettino di danni più avanti qualora a voi piacesse questa idea ci sarebbe da fare danno bravo 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 mamma mia ma un fenomeno ok facciamo così vediamo se riusciamo a prendere qualcosa o qualcuno attenzione 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 non uccidere scappa 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 è morto tara se magari incominci a colpire vabbè vabbè ma di che stiamo parlando da rallucce vino ti tengo io preso preso buono allora continuiamo così riusciamo il gadget e lo usiamo di nuovo così attenzione attenzione piano piano con calma dai dai non siamo messi malissimo stranamente anche se questa partita di power league è da raccontare ai nipoti per dire guardate come non si giocano determinate partite attenzione attenzione tara 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 ok brava tara andiamo 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 che tanto boda solo non può fare molto bravissimi dai dai che è questo perfetto vi devo dire ragazzuoli non capisco come stiamo vincendo attualmente probabilmente gli avversari hanno meno coppe di della mia tara che non ha manco 8 bit però per concludere il video una partita così easy in power league ci sta quindi secondo round brava tara quella mossa incredibile mamma mia ma chi sei ghiglie sicuro attenzione dove sono ok io mi metto qua di lato c'è qualcuno da questo lato no liscio liscio attenzione ok mi metto qua così e io sparo allora non l'ho preso non l'ho preso per quanto ok a sto punto io mi rimetto così rifaccio di nuovo il colpo peccato perché non mi aspettavo che respawnasse così velocemente brava tara ragazzi il bot incredibile il bot di tara max in piglia va fa danno e torna peccato potevo mettermi il pin quello nuovo quello di max umano ma molto molto bello pure quello vai bravo che ti sei messo in mezzo allora facciamo di questo così attenzione 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 pick pocket ok con calma con calma si risolve tutto vai 41% partita combattuta non è vero partita dominata ma ci sta comunque sono tipo a oro 1 ma neanche quindi era tanto per concludere il video con una vittoria sono molto malissimo cioè bottiglie di liquido in faccia un assassino a destra un uccellino là la vespa che mi spara cose mistiche non fatela tirare allora mettiamo l'ultima ulti teoricamente dico l'ultima perché dovremmo forse vincerla si spera ne ho messo un'altra perfetto anche qui no anche qui non prende 23 22 21 dai 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 questa win è nostra io manco pusho più aspettiamo semplicemente al barco aspettiamoli ah no vabbè io ragazzi avevo letto un secondo in realtà era 10 benissimo perfetto perfettissimo quindi 2 su 2 13 kill tante roba vabbè quelli si sono fatti massacrare ok sono arrivato ora ad oro 1 mamma mia incredibile ragazzuoli io per oggi ho finito spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando un pollicione in su un commento iscrivetevi e vi ricordo i social andatevi a iscrivervi pure lì e noi ci rivediamo domani con un nuovo video o una nuova live ciao ciao Grazie.